Il comune di Belvi, alle falde del Gennargento È un piccolo paese da cui prende il nome una delle tre barbagie, la barbagia di Belvi appunto. Sul monte Pizze Prano si trova la Madonnina, è presente anche un parco avventure. Sull'origine del suo nome vi sono differenti versioni. Una la ritroviamo negli scritti del canonico Giovanni Spano. Nel suo vocabolario sardo geografico patronimico etimologico del 1873. La chiesa campestre di Santa Margherita è un altro luogo da visitare. Il parco di Castagnetti E inoltre, il paese ha un bellissimo anfiteatro per gli eventi. Un gran fascino ha il monumento ai caduti. Da visitare la stazione ferroviaria conclusa nel 1888. Fremдо! Da visitare la máscانia di San plataformen! Da visitare la stazione ferroviaria conclusa per legume del pez. Di ciladino T NES E XV Vi aspettiamo a Belvì. Concludiamo con la chiesa di Sant'Agostino Vescovo. Grazie a tutti.